che noi siamo The Walking Dead il lunedì 3 aprile non uscirà nulla visto che uscirà la casa di carta datemi almeno un giorno di riposo che mi guardo la casa di carta sabato usciranno le parti più importanti della puntata 15 e poi domenica ricominceremo con gli episodi dalla prima stagione io ho già registrato tutta la prima stagione ragazzuoli l'ho registrata in inglese in sottotitolo in italiano come avete visto se ragala preferite in italiano me lo scrivete però dovranno esserci almeno 15-10 persone italiane che me lo scrivono altrimenti io continuo in sottotitoli in italiano detto questo raga iniziamo con lo spoiler allora cosa succede in questa puntata anche questa qua non credo sia una gran puntata però ci sono un bel po' di cose allora parte subito con Beta che arriva da Alexandria ma non trova nessuno tutti sono scappati dove sono andati sono andati in un punto di ritrovo che è un ospedale allora Negan come lo prendono raga nessuno dice niente a Negan e sembra che l'abbiano accolto diciamo come diciamo un cittadino vero Beta che cosa fa con l'orda arriva da Alexandria e capisce che non c'è più nessuno e quindi è diretto ad Oceanside se vedete bene nel promo raga c'è la torre dove Beta è sopra con gli altri sussurratori bene in quella torre dietro nascosto nella torre ci sono Alden e Aaron che cosa fanno nella torre praticamente Alden sente che cosa dice Beta e Aaron si copia tutto sul braccio metallico il piano di Beta è a dare a Oceanside solo che cosa succede durante il piano di Beta durante il piano di Beta Beta vede uno dei nostri e lo segue con tutta l'orda quindi probabilmente ci vedremo Beta che arriva all'ospedale cioè il punto di ritrovo Eugene Yumiko Isikiel è la suddetta Princess signori cosa succederà cosa succederà che in questo episodio Princess li conduce al punto di incontro e che cosa succede li fa passare per un campo minato solo che è una pazza e quindi vabbè salta tutto per aria ovviamente non muore nessuno Eugene ci fa amicizia e alla fine Yumiko gli chiede di diventare membro del nostro gruppo così ho letto raga dovrebbe essere così e quindi loro continuano e però non c'è traccia di Stephanie non sono ancora arrivati all'incontro e quindi Maggie slitta nell'episodio 16 porca di quella puttta detto questo raga cos'altro parlare ecco il piano dei nostri era che la mandia andasse ad Oceanside solo che avevano un piano per eliminare Beta e la mandia il problema è che Beta non va ad Oceanside Beta va all'ospedale e così finisce la puntata signori si vede la parte di Oceanside se non mi sbaglio dove c'è Luke che sta praticamente mettendo in atto il suo piano e tutti si fidano di lui e raga questa era la puntata Connie non si sa nient'altro Daryl ha un bella parte di dialogo discutivo con Judith che Judith non gli dice che sua mamma Michonne è andata a cercare Rick dice solamente che sua mamma è partita per andare ad aiutare delle persone ma non è detto non ha detto che è andata a cercare Rick quindi vuole tenere il segreto perché non lo so il perché non lo so si saprà avanti detto questo raga questo era il video spero vi sia piaciuto se così un bel like raga Maggie non si vede slitterà il sedicesimo episodio quando uscirà ragazzuoli avrete il video spoiler io ve lo dico subito altro che spoiler raga visto che sarà una puntata da dio la 16 visto che ritornerà Maggie se non ritorna Maggie nella 16 sono dei coglioni perché secondo me avrebbero dovuto farla tornare nella 15 però vabbè detto questo raga spero che il video vi sia piaciuto se è così un bel like e detto questo ciao ciao ciao